carissimi fratelli e sorelle amici cari pace del signore buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica oggi è 30 gennaio sono le sette del mattino spero che state tutti quanti bene e voglio invitarvi a leggere insieme a me i versi 13 e 14 del salmo 139 dove è scritto se tu che hai formato le mie reni che mi ha intessuto nel seno di mia madre io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo meravigliose sono le tue opere l'anima mia lo sa molto bene voglio cominciare leggendovi uno stralcio di un articolo riguardo all'embrione è scritto che un mese dopo essere stato concepito l'essere umano misura 4 mm e mezzo il suo minuscolo cuore batte dopo una settimana circa le braccia le gambe la testa il cervello ci sono già a due mesi misura appena tre centimetri dalla testa alla punta dei glutei piegato starebbe in un guscio di noce dentro la vostra mano chiusa lo vedreste appena potreste schiacciarlo senza accorgervene ma aprite quella mano e vedrete che è pressoché completo mani piedi testa organi tutto in ordine e non farà altro che crescere guardate più a fondo con un normale microscopio e scorgerete le sue impronte digitali tutto è ormai pronto per la sua futura carta di identità in quel momento il piccolo è grande come un pollice e quando le madri raccontano ai bambini la favola di pollicino raccontano una storia vera ciascuno di noi è stato un pollicino nel ventre di sua madre sì ciascuno di noi è passato come lui per una specie di contrada sotterranea un rifugio ricurvo con un bagliore rossastro un rumore ritmato nel quale si vive una vita strana e meravigliosa l'incredibile pollicino l'uomo grande come il pollice esiste realmente non è quello della favola ma quello che ciascuno di noi è stato e nel leggere questo articolo molto riflettuto sulle perfezioni di dio e su quanto straordinario sia l'uomo da un punto di vista della sua struttura fisica e tutto questo è frutto del progetto di dio nessun uomo nasce per caso nessuna donna viene alla luce per errore tutti siamo qualcosa che è nato per volontà di dio tant'è che la bibbia dice che i figli sono un dono del signore non sempre vero questi doni vengono apprezzati tanti vengono abbandonati purtroppo per diversi motivi e qui non sto certo a giudicare chi compie questo atto dio sa ogni cosa ma per ogni uomo per ogni donna c'è una certezza e una consapevolezza e cioè il fatto che dio che ha formato il corpo dell'uomo e che lui che ha dato la possibilità ad ogni persona di venire alla luce voglio parlare a quanti magari in questo momento vivono della consapevolezza di essere stati forse abbandonati o magari anche dimenticati dai propri genitori e magari pensano di essere nati per errore di essere uno sbaglio di mamma e di papà no non sei uno sbaglio non sei un errore sei un essere umano che è venuto alla luce perché dio lo ha voluto e dio ha dei progetti anche per la tua vita lo voglio dire a quanti magari si sentono bistrattati forse perché non hanno le fattezze fisiche che la cultura moderna impone e quindi si sentono brutti o magari pensano di non poter essere accettati nella società la società di oggi vive nel peccato e quindi non riesce a vedere il valore di una persona ma sappi che dio ti ama e ti apprezza per quello che sei potresti essere anche brutto o brutta agli occhi della società di oggi ma sei bello o bella agli occhi di dio anzi sei preciosa ai suoi occhi e lui ti ama e lui ha dei pensieri e dei progetti anche per la tua vita perché egli non guarda all'esteriore l'uomo fa questo egli guarda all'interiore ai sentimenti che ci sono nel cuore e tu non sei inferiore a nessuno anche se magari ci sono delle menomazioni fisiche egli può fare anche tramite di te quello che egli ha fatto con altre persone perciò perché ciò che rende possibile l'opera di dio non sono le capacità umane o le forze umane ma la potenza della sua grazia e anche se ci sono dei limiti fisici sappi che anche tu sei stato fatto in modo stupendo e che l'opera che dio ha fatto attraverso di te è un'opera meravigliosa perciò prendi coraggio e fiducia nel signore e ricevi il dono della vita che dio ti vuole dare non stare lì a guardare a come sei fatto o fatta non guardare alla tua storia non guardare magari al fatto che non sei amato come altri da parte dei tuoi genitori dei tuoi familiari dio è quello che vuole sopperire a tutto questo con il suo grande amore e se tu glielo permetterai egli sarà per te un padre egli sarà per te un amico egli sarà per te soprattutto innanzitutto il tuo salvatore ed egli sarà per te colui che ti si servirà per la sua gloria magari per portare l'evangelo ad ogni creatura e se tu accetterai quest'invito accetterai la sua vita in te tu un giorno potrai vivere per l'eternità non più con il corpo che hai oggi ma con un corpo nuovo glorioso incorruttibile potente quello che dio darà ad ogni credente quando egli tornerà perciò credi nel signore afferra la grazia di dio nella tua vita abbraccia la lunghezza la larghezza l'altezza la profondità del suo amore e ricorda è lui che ti ha intessuto è lui che ti ha fatto e siccome le sue opere sono meravigliose tu sei meraviglioso dio ti benedica dio ti accompagni dio ti fortifichi affinché in questo nuovo giorno tu possa godere della sua pace e della sua forza dio sia con tutti quanti noi